salve nel contributo di quest'oggi parleremo di un'opera importantissima della storia del teatro francese di pierre marivaux che si titola il gioco dell'amore pierre marivaux è stato uno dei più grandi comediografi francesi del stecento sudo a cavallo praticamente tra il seicento e settecento lui fu coetaneo in qualche modo contemporaneo di moliere di rasin di tutta la grande scuola dei grandi comediografi e drammaturghi della francia dell'epoca di luigi quattordicesimo questa commedia venne scritta e rappresentata a parigi nel 1730 è una delle commedie più belle sicuramente della storia del teatro francese e indubbiamente tra i capolavori di pierre marivaux la storia di questa famiglia aristocratica dove troviamo ovviamente il personaggio di silvia che è questa donna bellissima promessa sposa di questo dorante di un altro figlio di nobili natali il problema di di silvia è che lei non è convinta del suo matrimonio lei ha paura di prendere un granchio come si suol dire ha visto già dall'esperienza anche attraverso le sue amiche quelle che persone che conosceva paura che suo marito possa dimostrarsi in un modo prima del matrimonio e poi dopo comportarsi in misura completamente diversa come dire indossare una maschera fuori di casa e poi indossarne un'altra nel momento in cui torna a casa come aveva visto fare da molte altre persone che aveva conosciuto lei stessa e questo timore chiaramente la mette in sorgezione anche per l'incontro con il suo futuro fidanzato col futuro marito questo dorante che lei non aveva mai visto ma di cui tutti parlavano bene si diceva che era un uomo bello dolce nobile intelligente insomma tutti i più grandi attributi che ci possiamo immaginare però tutto ciò non la convince allora chiede a suo padre di concederle di fare un esperimento ossia di prendere lei il posto della sua cameriera di lisetta che appunto la sua domestica di travestirsi da lisetta quindi di prendere le fattezze in qualche modo il ruolo della cameriera e lisetta di travestirsi di prendere in qualche modo il ruolo della sua padrona quindi fingersi silvia in questo caso per vedere nel momento in cui il nostro dorante si presenterà lì a casa sua vedere che tipo di persona è realmente perché osservandolo dall'esterno ci si può fare un'idea molto più chiara al padre questa idea piace molto e decide quindi di appoggiare l'idea della figlia la cosa interessante però è che nello stesso tempo anche dorante ha avuto la stessa idea di silvia ossia vuole anche lui proprio perché ha saputo di come i matrimoni in molti casi sogliano andare ha avuto l'idea di travestirsi cioè di prendere le retini in qualche modo di prendere il posto del suo domestico di arlecchino e fare in modo che arlecchino si finga dorante per vedere appunto che personaggio è questa silvia ovviamente l'unico che ha conoscenza del piano dei due giovani è il padre appunto questo signore orgone e il fratello di silvia il fratello di lei mario che però non devono assolutamente rivelare nulla silvia e chiaramente non diranno nulla neanche a dorante perché altrimenti il piano andrebbe completamente falli sarebbe andrebbe in fallimento il tema chiaramente del travestimento è uno dei temi più famosi anche più ricorrenti nella storia della letteratura del teatro anche dell'arte di ogni tempo pensiamo che già lo ritroveremo in plaudo ad esempio ma possiamo ritrovarlo in shakespeare pensiamo nella commedia degli errori che è uno dei testi secondo me delle commedie più divertenti del teatro shakespeariano costantemente anche nella commedia francese specie poi nel settecento poi d'altronde anche nell'opera se pensiamo ad esempio nel così fan tutte mozartiano che è l'ultima delle opere della trilogia mozart da ponte sappiamo anche lì abbiamo due coppie ovviamente due uomini e due donne e anche in questo caso i due uomini per mettere in qualche modo per vedere per testare la fedeltà delle loro amanti decidono di travestirsi da altri uomini per cercare di metterli alla prova per vedere se loro sono veramente fedeli o meno questa idea quindi del travestimento dell'occultare in qualche modo la propria vera identità in realtà al fine poi dimostrarsi veramente per ciò che si è perché finché una persona è costretta a essere a mostrarsi per quello che gli altri pretendono quindi nel caso ovviamente di silvia in questo caso dovrebbe mostrarsi o anche di dorante essendo nobili in qualche modo di estrazione tutti già si aspettano in qualche modo un determinato comportamento anche se poi come dicevamo poc'anzi nella realtà i personaggi possono essere ben diversi da quello che inizialmente sembrano illustrare sembrano mostrarci invece attraverso il travestimento è proprio questo l'arcano geniale lo strumento che la letteratura ha sempre utilizzato che siamo anche nel decameron d'altronte di boccancio nel travestimento la persona è libera dalle convenzioni sociali nel momento in cui uno si traveste può essere può scegliere veramente dimostrarsi per quello che è senza doversi vergognare senza la paura di essere smascherato tanto nessuno sa che sono io questo è fondo anche un atteggiamento che oggi troviamo molto frequente in molte situazioni se vogliamo chiaramente il momento in cui i personaggi ovviamente si incontrano in cui lisetta appunto che prende che si finge essere silvia e arlecchino che si finge dorante subito si prendono in simpatia si trovano si piacciono ovviamente si cominciano ad amare quasi a prima vista per il che da una parte si spiega per il semplice fatto che entrambi sono dei domestici quindi parlano un linguaggio molto colloquiale molto diretto anche nel loro modo di essere in qualche modo sono portati ad avvicinarsi a comprendersi anche ad amarsi per certi versi e infatti subito la nostra silvia appena vede arlecchino pensando che egli sia dorante viene subito in qualche modo colpita dalla sua volgarità dal suo modo di essere un po cafone un po villano come poteva essere tipo tipico ovviamente di un domestico di un servo in questo caso e anche la stessa cosa che prova dorante nelle vesti di arlecchino appena vede lisetta la vede come una persona assolutamente pensando che essa sia silvia la prende appunto come una persona assolutamente sgradevole con cui assolutamente non vorrebbe mai giungere a nozze e vede al contrario che il servo invece ci prova gusto a interpretare la sua parte tutto questo chiaramente non può non farci costantemente sorridere nella lettura di questa opera straordinaria e nello stesso tempo però avviene anche quello che è inconsueto che può sembrarci a prima vista difficile ma che in realtà poi ci sembra la cosa più naturale del mondo il nostro dorante appena vede silvia nelle vesti di lisetta pensando appunto che ella sia la cameriera si innamora perdutamente della nostra silvia quindi di quella che è realmente e anzi si stupisce non solo della sua intelligenza della bellezza e del suo modo di parlare domandandosi ma come può una cameriera parlare in questo modo essere così bella e la stessa cosa che in qualche modo sorge anche in in silvia nei riguardi del nostro dorante anche se però non può ancora esprimerlo non può realmente affermarlo perché inizialmente tutti e due sono un po vinti dalle convenzioni sociali ricordare anche che marivò in questa commedia cerca anche di disfatare quei tabù che erano tipici ovviamente della società dell'epoca ma che per certi versi sono ricorrenti ancora oggi cioè l'idea che di quanto sia sbagliato giudicare una persona solo dall'apparenza una persona può essere straordinaria anche appunto nelle vesti di una persona comune di quanto sia assurdo appunto credere che l'amore possa essere dettato solo dalle convenienze sociali soltanto dal grado di appartenenza e marivò tutto questo ce lo illustra soprattutto verso il finale quando il nostro dorante è ormai completamente innamorato della nostra silvia sempre convinto ovviamente che ella sia una cameriera e le dice chiaramente io ti sposerei lo stesso anche anche se tu sei una domestica anche se non hai nessuna dote non mi importa nulla anche se vado contro il volere di mio padre che voleva che io mi sposassi con una donna ricca con una donna benestante ovviamente di una casata importante a me tutto questo non interessa perché io amo te perché tu sei la persona che veramente desidero di tutto il resto non mi interessa e chiaramente poi silvia vedendosi in questo caso accettata nonostante la sua il suo travestimento poi finalmente può rivelare adorante chi è veramente e in qualche modo i nodi si scioglieranno e tutto andrà come come chiaramente tutti ci aspetteremmo questa commedia così divertente che quindi fa anche da un tocco di leggerezza di leggiatria con una con quella grande introspezione psicologica che era molto che era una prassi ovviamente nel diciottesimo secolo nel settecento questa cura nel dettaglio chiaramente le donne ne escono sempre come le vincitrici come quelle che tengono in qualche modo in mano le redini del gioco anche perché silvia era riuscita a un certo punto a farsi dire adorante chi era lui veramente cioè che non era che non era veramente arlecchino ma che si era vestito da servo soltanto per vedere come era silvia credendo appunto ancora che silvia sia lisetta e però silvia appunto vedendo che allora lui è un nobile non vuole subito rivelare inizialmente la sua identità vuole farlo ancora aspettare un altro bobo lo farlo cuocere nel suo brodo vuole farlo anche leggermente ingelosire tutto questo ovviamente viene mostrato con una grazia con una semplicità con un realismo anche con un'introspezione veramente straordinarie che rendono quest'opera non soltanto divertentissima bella leggera come abbiamo detto da leggere ma anche una grandissima riflessione su quella che su quelli che sono realmente i sentimenti umani su quello che dovrebbe essere l'amore e in particolare su anche su certe idee su certi preconcetti che noi troppo spesso ci facciamo nei riguardi degli altri quando siamo subito pronti a giudicare una persona solo dal loro grado di appartenenza senza poi renderci conto che dietro quel quel guscio si nasconde un'anima molto più grande di quello che possa sembrare ad una prima ad una prima occhiata ed è per questo che il gioco dell'amore di pierre marivaux una commedia che tra l'altro viene rappresentata all'evoca da una compagnia di attori italiani per questo troviamo infatti il personaggio di arlecchino che noi conosciamo bene rimane un'opera assolutamente da andare a leggere per apprezzare non solo una delle più grandi commedie del settecento francese ma anche uno dei più grandi commediografi della letteratura francese di ogni tempo grazie